Questo sono io, Serena e Guido, i miei genitori, mio fratello Paolo, storia della nostra famiglia nell'estate del 74. Nello studio di mio padre avvenivano delle cose strane. Perché il mio corpo non lo modello mai? Non lo modello quando lo abbraccio, cioè il mio amore. Mia madre non amava particolarmente l'arte, ma amava moltissimo l'artista. Non me lo chiede sempre in strip. Se uno ti chiede il permesso di essere libero vuol dire che non lo è dentro. Lui hai dato i tuoi figli vincerai sempre contro gli altri. Tu per esempio lo sai cosa vuoi? Non lo so. Sparisci per un po'. A chiederci. Dario, guarda avanti, è caldo. Siamo lesbici! Mi dici sempre che dobbiamo essere più liberi? Comincio io, posso? Indubbiamente erano anni felici. Peccato che nessuno di noi se ne fosse accorto.